salve a tutti benvenuti in una potenza di essere su mlb racionato via 22 con il nostro metà e mancano poche puntate signori veramente poche puntate alla fine qua beh facciamo batting cage drills ok ha drillato e non ho giocato per due partite davvero sono due partiti in cui non ho giocato ragazzi mi hanno messo in panchina in panca hanno messo in panca mi hanno panchinato hanno panchinato il nostro metà mi rendete conto l'hanno panchinato hanno panchinato metà ball 1 1 dai dai signori non arriverai probabilmente a giocare in mlb ma almeno queste penso forse ultime tre puntate che vedrete almeno come posso dire cerchiamo di lasciare il segno di lasciare una buona impressione ok bene fermati lì dove sei va bene così va bene così signori è bene così ora siamo calmi ok e vabbè niente non è servito a niente non è servito a niente maia only swing make contact with every swing and driving around allora only swing at pitches inside the zone and driving around vabbè qua non ce la farò mai non ce la farò mai non ce la farò mai ma in entrambi i casi non ce la farò mai ok ok va bene ok nooo no only swing only swing only swing niente vabbè la 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 non mi è riuscito va bene fa niente bollo 1 2 va bene va bene bollo 2 2 va bene va bene va bene va bene dai signori dai signori dai dai metà metà e e e e e è bella no 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 fermati 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 va bene così va bene così abbiamo fatto fa due punti va bene così ok ok madò che bruttura salvo i i i i 3 a 0 benissimo benissimo dai signori signori in bellezza signori in bellezza le puntate lo so sono tre puntate che possono avere poco senso ma non mi viene mettere nient'altro è on the bag fermati on the bag niente mi sto on the appunto mi sto on the bag mi sto proprio on the bag amico mio allora ok bene si va a punto si va a punto signori si va a punto la nostra metà va a punto si riesce anche a levitare nel vuoto va bene va bene tra l'altro diciamo di recente pochissimi fa ho visto un video su visto dei sviluppatori per quello che su quelle che dovrebbero essere diciamo le novità soprattutto modalità per gameplay modalità franchise sonora altre cose non mi sembra di capire se ci sono grosse novità o perlomeno quelle novità magari che hanno messo sono più sulla struttura del mercato eccetera che non so quanto cosa interessate facendo facendo che comunque solitamente porto avanti una sola stagione porto darmi niente eliminato va bene comunque sempre tutto diciamo un'impressione che dai di un di un prodotto semplicemente rifinito signori rifinito sarà interessante sarà davvero interessante e non vedo l'ora onestamente parlo con voi non vedo l'ora porto tutto 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 allora dai metà dai metà e non si e ci prova a fare a fare il volbetto e non si e non si ok calmo ball 1-1 dai 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 che si può fare dai che si può fare questa era stra strike stra vabbè vabbè ho detto vabbè ora scende ora va via ora scende ora scende e non è sceso ecco invece questo è sceso non ho capito non le capisco non le capisco però abbiamo vinto abbiamo vinto Nashville ha vinto bene così confermiamo l'advance confermiamo l'advance e ok e ok signori allora poi andiamo oh lancio oh siamo all'analità lanciatore dove sono ancora in realtà in livello di difficoltà amatore perché ho lanciato quasi niente lanciato quasi nulla 1-1 e niqua in là sì ho capito amico mio ho capito va bene sì quante volte me lo dovete spiegare è tutto porca domani 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 amico mio domani domani ok 0-1 brrk poi 0-2 poi ne curva fa la curva e niente ne curva non si devono fare va bene eeeh va bene non è che stiamo lanciando benissimo eh va bene va bene eeeh ok faul 0-2 allora eh 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 però come faccio io scusa io voglio vedere come mi fa a vedere come faccio a vedere come faccio a vedere no eh voglio vedere dietro posso vedere dietro vuole voglio però fare i lanci stronzi a niente non posso farlo come faccio a lanciare verso le altre bati per fare farlo stronzo e farli minagliare come faccio io non non so come fare va faul ok eh no come faccio a lanciare le altre basi eeeh come cacchio si fa non niente non posso vabbè niente ci vado così 2 2 e gnaccia dai a posto bravissimo prelminato va bene va bene ora o giuro sto premendo qualsiasi cosa sto dice change up qua e change up la vabbè 0-1 poi vabbè c'ho capito qua fa la battuta no invece no 0-2 si qua sono d'accordo ma non è andata male è andata male no ho sbagliato vabbè in faccia per intimidirlo vedi sentimi come sentimi dito eh poi di qua si però metà un attimo devi avere e e niente salvo vabbè ok posso contro cortesemente niente non posso non posso verificare io dove devi lanciare non posso lanciare le altre basi ok no 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 non voglio qual intentional no ma qual intentional ma qual intentional 1-1 qual intentional intention va bene 1-2 mo strike out dai facciamo strike out dai strike out stricalo stricalo out stricalo stricalo io poi ecco questo chiedo anche poi per il futuro per per anche per la modalità franchise eccetera come dico da lanciatore come ti fa a lanciare le altre basi qual è il comando per playstation 5 per lanciare le altre basi perché non perché non non lo so non non lo so non riesco a capire vai tuo punta il dito in alto i nostri dita e i nostri cuori avanti ci mi hanno messo una vita e mezzo e niente ci hanno fatto lanciare un inning ci hanno fatto lanciare un inning da queste queste mobbing comunque dai queste mobbing queste mobbing dai fa lanciare un inning c'è vera veramente neanche totti all'ultimo anno la roma dai c'è insomma dai ora una battuta ora noi abbiamo ricezione bene ok che tu serenamente tua eeeh yeah Armstrong ancora si va bene ok io adesso la battuta dai metà ok ma 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 ahhh ho detto mo mo si abbassa mo si abbassa no si abbassa ancora no bollo uno due questo chiude gli occhi e tira fortissimo ho capito questo chiude gli occhi ball ball 2-2 ma credo una in zona di strike non l'ha tirata una che dica una heart attack heart attack heart attack ahhh advanced runner advanced runner advanced runner o in caso di base ball tecnicamente si si però comunque si fatto avanzare il runner il runner avanzato challenge completa dai dai adesso mi fa un base ball mi fa un base ball base 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 ball 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 base 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 ball 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 e gioca noi con sientan base ball ba 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 base ball va bene calma ok la sta lanciando oh base ball è pareggio e noi siamo in terza base adesso vai 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 eh no invece lui ti fa eliminare va bene va bene va bene va bene adesso ricezione pronti per la ricezione riceviamo di ricezione riceviamo ok serenamente tua serenamente tua e vai a posto va bene tempo e precisione e forza da braccio va bene e adesso ancora imbattuta niente niente proprio va bene vai a metà vai a metà che ci allora orta veniamo non le capisco se palle basse non le capisco non le capisco boll 1-1 dai 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 grazie grazie arbitro 2-1 va bene calma ma non lo sbanni bug sbanni 2-2 va bene ma e niente porca miseria ha stampato la una doppia cioè proprio c'era proprio ma c'era male il stampato va bene va bene va bene uguale va ben the same ok qua ok serenamente 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 l'allero dai signori allora dai che si può dai che si può no qua anche qua molto sereno molto serena la cosa decisamente serena la cosa alla grandissima dai dai poi ah 3-2 per loro non so ce l'hai neanche detto che squadra era ce la fai tu ce la fai tu sereno serenamente tu ce la fai bravissimo bravissimo adesso sempre settimo inning e però aumentano gli uomini in base come è il suo discorso aumentano gli uomini in base sereno serenamente va lancio di qua prima in base proprio molto sereno molto tranquillo e mo avanti ottavo inning che siamo in battuta goal 1-0 dai 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 signori dai dai signori dai 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 metà 2-0 questa la regalata al cugino in tribuna questo tira le mine 3-0 3-0 bene dai dai si mette pression porto botanico 3-1 va bene va bene va bene ma porto lo porto dove lo porto lo porto al mare 3-2 3-2 pattuta e niente uh eeeh automatic double automatic double e mo si parta la seconda dai 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 attenzione che ok si è fatto eliminare il pollo vabbè dai dai aspetta mi tengo sempre pronto eeeh ti pare eeeh ti pare pronto ero ti pare eeeh ormai sono col pollice proprio pronto sulla levetta vai ah posto posto vabbè posto noi siamo in terza base ho detto metà in terza base mo dobbiamo sperare che ci faccia una valida dobbiamo sperare che faccia una valida guà lonnie lonnie loffi qua si tu sei scemo tu sei tu sei scemo due eliminanti e fa sba fa bant vabbè tu sei scemo vai ci sono a posto e mi sa che finisce qua sta partita si la vittoria di charlotte finisce con la vittoria di questa è la vittoria di charlotte vabbè signori io direi che per oggi se non succedono cose particolari particolari e che per oggi possiamo anche fermarci qui e che dire no ho sbagliato ho sbagliato ho sbagliato volevo andare fermi fermi e prendiamo la prossima